E' un ingegnere romano che si fa un viaggio del tempo attraverso l'acqua di terme. Da antica Roma in Giappone. Sono molto contenta di questo evento che verrà effettuato quest'anno, che verranno portati 300, quindi una cosa veramente speciale, perché non credo sia tutte le feste di Barcellà disponibili per raccogliere tutti questi fumetti disegnati direttamente. Praticamente io ho studiato arte a Firenze per 19 anni, però alla fine sono andata a fare Fometista. Quindi questo vuol dire quanto è importante questa struttura di manga per i giapponesi e potrebbe essere benissimo collegato con l'arte italiana e comunque le giapponesi. Sono veramente curiosa anch'io di partecipare a questo festival e sono veramente felice di tutto questo. Grazie. Vi aspetto a tutti a Milano Manga Festival. Grazie. 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 Grazie.